...e inizia a pagare nel volino a 13, solo nel veicolo di Bruttanusena e la impizia di Sassoufades con sezzano approvazioni di tempo ogni parte di sé. È un'iniziativa delle concessionari e remote, nella Liguria. Certo che ritornano all'Oro Malone del Cavallino Masso, le ultime tre domeniche di ottobre. Animazione e premiazione delle maschere migliori, in valio biglietti o maggio per l'ingresso al parco. E domenica 28, la Migure Mascherano con abbonamento annuale, Cavallino Matto, farina di castagneto, limonci. Bella la vostra ricerca di mercato. Ma come vai? Tutti scrivete e chiamate.